Sicuramente il gol manca, ormai è già qualche mese che lo sto ricercando, poiché anche nell'ultima partita dell'anno scorso non sono riuscito a trovarlo. Sicuramente siamo sulla strada giusta e sono convinto che lavorando così nelle prossime partite potrebbe arrivare. L'anno scorso 30 partite su 35 le ho giocate seconda punta nel 3-5-2, quindi penso che come caratteristiche potrei tranquillamente ricoprire quel ruolo. Però sicuramente davanti a me ho giocatori esperti e quindi giustamente hanno la precedenza loro, poi se avrò la possibilità di dimostrare, starà a me di poter fare qualche minuto in più. Ma io sto bene, ogni settimana sto migliorando. Era questa sfortuna quando sono arrivato che sono fermato un po' per un'infiammazione di tendine. Ora ogni settimana mi sento bene e anche io penso dopo sosta che sto pronto e a disposizione per giocare. Lavora tanto e i giocatori hanno voglia di lavorare. Seguiamo il nostro mister che lui dice, si vede anche sul campo che ogni partita si gioca meglio. L'impatto è sicuramente il livello più alto della Serie C, ma diciamo che mi trovo bene. Anche se ho giocato ancora poche partite penso che posso fare di più, penso che avrò l'opportunità di dimostrare che posso fare bene in Serie B. Il mio idolo è il Paul Pogba e anche gli alzatori. Sono un calciatore che da piccolo seguo e che veramente mi fanno impazzire. All'inizio sì, stavo trovando più spazio. In questo momento sto trovando un po' meno, però c'è la verità che quello è il mio ruolo, stanno facendo bene tutta la squadra. Il mister sta trovando un equilibrio e non sembra il caso di cambiare perché stiamo facendo molto bene. Quindi c'è il mio ruolo, sono giocatori forti, c'è la competizione giusta, però io conosco il mio valore e quando c'è l'occasione mostrerò il mio valore.